Buon appetito! Giorgete che è natura? Sì. Sono un tanto, un tanto. Sono due anni, no? È il mio ristorante. Io ho un orsi, eh? Sì. 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 Ehm... Vuoi te... Adesso apriamo lo Puswan. Aspetta! Va aperto prima! Ah, dammi avanti lì. Va aperto prima lo Puswan. Questa è natura, io... Ma a me c'è lì. Sì, no, no, no. Già va scaraffato. Eh sì, eh. Sono evintato e... Sono ancora in ripresa? Sì. Eh? Che sta andando in ripresa qui? Eh sì, eh. Perché questa bottiglia non è una bottiglia. Ma il mio qua no. Eh sì, è vero, eh? È un bottiglia di... È... È... Eh... 23... Oh! Sì, sì, è tutto un orsi! Senti qua. Senti qua. Senti che meraviglia. Sì, sì, guarda! Eh, ecco qua. Sì, qua. Sì, qua. Sì, qua. Sì, qua! Sì, qua. Grazie.